Io adesso non posso dirvi gli anni per trairsi, ormai sono un personaggio pubblico, non posso, però io sono il primo videomaker italiano, cioè l'unico che mi batte è Cironi, di cui io ho il massimo rispetto, però è l'unico, e io sono il più giovane, perché non mi posso dire gli anni ma sono il più giovane, quindi io sono quello con più prospettive, come videomaker, questo, questa cosa me la dovete riconoscere, dovete dare al Cesare quel che è di Cesare, perché? Perché questo è successo? Voi ve lo siete mai chiesti? Forse perché ci sono le skills, cioè ve lo ritornate Maradona, Belè, Ronaldo, il fenomeno, non questo qui, il fenomeno, Dovete prenderne atto di questa cosa, dovete prenderne atto, dovete capire le cose, io sono quello che fa più visualizzazioni in assoluto di tutti, ci sarà un motivo!